Io credo che bisogna mettere insieme tutte le forze delle varie categorie economiche, artigiani, commercianti, agricoltori e così via per cercare di mantenere questa funzione che è importantissima per tutta la città. Io credo che effettivamente bisogna creare un qualche cosa ma in maniera concreta e attivarci fin da subito per dare gambe ad un progetto che o preveda il rifacimento di questa struttura o comunque la creazione di una nuova. A parole ci siamo capiti bene, gli operatori di pulia e il mercato ortofrutticolo in sé vanno tutelati e salvaguardati. Il valore aggiunto questa volta riguarda la necessità di interpellare anche i candidati a sindaco per le prossime elezioni comunali. Con l'attuale amministrazione i rapporti non sono stati dei più floridi visti i silenzi del comune. Nell'incontro con Confartigianato è stata sottolineata nuovamente la posizione degli operatori del mercato, disposti a lasciare pulia solo con la certezza di trasferirsi in un luogo prossimo all'area cittadina in cui continuare il proprio lavoro, che ha sì una sua valenza economica ma anche sociale. In attesa di ulteriori incontri, gli operatori cercano appoggio dai clienti che giungono da tutta la lucchesia affinché sottoscrivano la loro petizione da presentare a chi di dovere. Ai lavoratori sembra davvero un paradosso che in un periodo di forte crisi economica un mercato che fattura milioni di euro all'anno venga chiuso e dimenticato dalla cittadinanza. E sì, perché di recente c'è stato qualcuno che, viste le pessime condizioni dello stabilimento, ha parcheggiato l'auto davanti il passo carrabile del mercato, forse pensando che fosse inutilizzato, ostruendo così il transito dei mezzi e ritardando il lavoro degli operatori.